Archiviati festeggiamenti e celebrazioni per i due sindaci eletti con il ballottaggio nelle due città delle sette sorelle della Granda, che ancora attendevano di conoscere il nome del primo cittadino, Cuneo e Savigliano, merita una profonda riflessione il tema dell'affluenza ai minimi storici. Un problema che non riguarda solo la nostra provincia, ma con cui anche Patrizia Manassero a Cuneo e Antonello, porterà a Savigliano, sindaci neoeletti con ampio margine ai ballottaggi dovranno fare i conti, cercando di capire come mai c'è così poca voglia di partecipare alle faccende della politica locale. Domenica scorsa a Cuneo è andata a votare appena il 36,72% degli aventi diritto, poco più di un cittadino su tre, è il dato più basso nella storia del capoluogo della Granda e non di poco. Finora il riferimento negativo era il 53,49% fatto registrare al ballottaggio del 2012 tra Borgna e Garelli. Situazione simile a Savigliano, anche nella città del Pendolino, il secondo turno di domenica scorsa, che ha incoronato Portera, ha segnato il picco più basso di affluenza nella storia, con il 42,16% dei votanti che ha scelto di recarsi al seggio. Il record negativo, in questo caso, risaliva al 2014, quando al ballottaggio Claudio Cussa venne eletto battendo Marco Buttieri. In quell'occasione la percentuale di votanti si fermò al 49,77%, dato simile a quello fatto registrare alle ultime elezioni nel 2017, quando l'affluenza fu del 49,90%. 50,90%. Grazie per la visione!